Santo Padre Con grande gioia, a nome di questa numerosa Assemblea della Chiesa di Roma, la saluto con affetto e profonda gratitudine. La ringraziamo di cuore di averci accolti e di dare inizio con la sua parola e i suoi orientamenti, anche quest'anno, al nostro annuale convegno pastorale diocesano. Sono qui i suoi collaboratori.